Salve a tutti amici per il Lovarelli, sono sempre di Scandal insieme a Blackwing e oggi siamo qui a portarmi una profile speciale allora abbiamo un mazzo che abbiamo montato da poco, però ho testato io molto su Pro Vulcanic Paleozoic Premetto che appunto non essendo uscite tutte le altre carte Paleozoic questa è ancora diciamo una beta, tra virgolette, come mazzo e non è ovviamente al pari del deck giapponese perché comunque Paleozoic con Vulcanic in Giappone è un T1 quindi andiamo subito a vedere la profile allora, 3x di Razzo Vulcanico, vabbè fortissimo via dall'acceleratore 3x di Scattershot, diciamo il mazzo si basa gran parte su questa carta quando viene mandato al cimitero dalle fette di una carta potete mandare gli altri due, distruggere tutti i mostri sul terreno dell'avversario e fare 500 danni 500 danni li fa indipendentemente cioè farete 1.500, cioè 500 per ognuno però se ne mandate uno e non avete altri target fa 500 danni comunque e triplo guscio vulcanico principalmente serve per pescare con l'acceleratore se ne avete uno al cimitero pagate 500 e ve ne date uno dal deck e infine soltanto doppia guardia quando viene evocata scegliete esattamente 4 mostri piro e li rimischiate e pescate due carte una carta veramente forte magie, doppia duality, non facciamo quasi mai special in questo mazzo anche se abbiamo comunque un'extra duality aggiusta molto le mani le prime mani, le partenze e anche vista mid game comunque non è tanto pesante doppia magical planter ci abbiamo in francese che si chiama pot però vabbè giocando tante trappole continue è veramente forte poi comunque è un peschino niente da dire 3 no perchè 3 sarebbero veramente troppo pesanti perchè a volte può capitare di pescarne 2 e se le pescate di primo sono inutili perchè non potete attivare trappole le potete attivare solo dopo che le avete posizionate quindi a 2 ci sta e il mono ricasto goblin giusto per giocare con una carta in meno queste erano le magie trappole vabbè ovviamente è l'acceleratore niente di che scartate un vulcanic pescate uno e quando è al cimitero lo potete bandire per appunto mandare dal vostro deck un vulcanic al cimitero quindi scattershot perchè dico che non è forte come quello giapponese? perchè in giappone c'è un paliozoico che manda dal deck le trappole al cimitero e quindi praticamente quella carta lì è uguale a fare scattershot riparto paliozoic doppia canadia qui allora questo secondo me è più scarso perchè semplicemente copre un mostro dell'avversario ogni paliozoic se è nel cimitero può essere evocato quando cioè incatenandolo praticamente è una trappola però deve esserci almeno un anello che non sia un paliozoico per incatenarlo mi spiego se per esempio io attivassi scattershot posso incatenare questo ed evocarlo però non incatenarne un altro a questo deve esserci un'altra carta trappola di mezzo giusto per fare chiarezza sono tutti mille due attacco zero death non occupano la zona traggia trappola sono proprio mostri normali e il fatto che siano normali è molto importante per vedere le carte che giocheremo dopo level 2 se vengono mandati al cimitero dopo che li abbiamo evocati vengono banditi per no, suonate, solo se lasciano il terreno quindi se ci fate Exceed non vengono più banditi Triple Olenoid questo è secondo me il più forte che è uscito finora che appunto spacca una maggiore trappola praticamente è come un tornado di polvere Triple Lucigena di mezzo all'attacco alla death di un mostro e solito dell'avversario e non c'era play di battaglia sul suo effetto è triplo picaia questo è diciamo il peschino del mazzo lo attivate, scartate un paleozoic e pescate due quindi molto forte e questi sono i paleozoic che giochiamo poi giochiamo doppio lose one turn e doppio sbaglio allora può sembrare che sbaglio sia un po' pesante in questo mazzo visto che comunque c'è Razzo che ha dall'acceleratore ma vi assicuro di no perché la maggior parte delle volte che noi giochiamo Razzo lo giochiamo di primo turno oppure abbiamo già l'acceleratore in mano detto questo poi col fatto di pescare si noi peschiamo tantissimo con questo mazzo alla fine c'è soltanto pod of duality e Razzo fanno addano tra virgolette però si però sono tutte carte che comunque utilizziamo già da subito se le abbiamo in mano e questa qua appunto va attivata soltanto quando l'avversario diciamo necessita di andare per le combo lose one turn è fortissima perché noi evochiamo normalmente la maggior parte dei mostri quei pochi che evochiamo specialmente sono normali quindi non subiscono l'effetto di lose one turn è una carta che possiamo togliere come sbaglio con plantern e quindi questa combinazione è veramente forte poi spaventa passere di ferraglia allora questa è una tech è veramente una carta stronza perché praticamente quando l'avversario attacca voi la attivate ok? negate l'attacco in catena alla sua attivazione potete evocare praticamente i paleozoic e più si risetta quindi comunque la potete cioè diciamo non è una risorsa che va sciamando doppia forza riflessa quella che rimbalza in mano secondo me è la migliore per ora essendo che quella che rimischia nel deck necessita che avete campo scoperto bottomless floodgate i buchi più forti a parere mio questo è assurdo perché settare mostri che non si possono più scoprire tanta roba bottomless diciamo che è utilissimo per il fatto che appunto bandisce il posto di mandare al cimitero e infine un warning state attenti non potete attivare warning e incatenare ovviamente i paleozoic perché essendo una counter paleozoic non sono spell speed 3 extra deck doppio anomarca archive qui non lo tiro quasi mai perché di fatto lui va fatto con 3 palozoic 3 palozoic no scattershot è level 2 uba a volte succede che lo sia che ci si fa xyz comunque principalmente il suo effetto più forte è quello che in qualsiasi turno staccate uno se avete trappole come materiale spaccate uno è abbastanza forte però l'altro xyz che deve uscire è ancora più forte vi fa attivare carte trappole della mano i paleozoici dalla mano centaurea secondo me è il rank 2 più forte per ora rimbalza non può essere stato in battaglia tanta roba dal gusto fenice perché giochiamo sia emerald che castle che sono vento quindi con questo possiamo farli attaccare due volte perché insomma fenice che attacca due volte è un 1.5 socchiutables che semplicemente ha un rank 2 come gaci gaci cioè questi due dovrebbero essere delle tritod o comunque l'oxyz l'oxyz che uscirà dai paleozoici araldino non è male a volte può essere utile doppio del gusto emerald fortissimo perché ovviamente è un altro modo oltre a guardia per riciclarci i scattershot e tanta roba rafflesia rafflesia perché c'è questa carta comunque è immune alle trappole quindi anche se avete lo svanturo lo svanturo non è un problema e come avete visto abbiamo due buchi è abbastanza forte castle cowboy per chiudere rebellion perché diventa un bittone 52 perché anche se c'è lo svanturo voi lo tirate anche in difesa o comunque in attacco diciamo ha un 3000 di def il turno dopo potete avere un 3000 che magari vi tira giù dei bittoni che normalmente riuscite a tirare giù e infine un f0 perché è abbastanza facile avere due xyz con appunto i palozoic palozoic questa carta è molto utile bene spero che il deck e la profile vi sia piaciuta ovviamente appena usciranno le prossime carte palozoic le aggiorneremo diciamo che è un buon antimeta e sono felice di aver portato sul canale questa profile un saluto a Iskandar e ciao a tutti Grazie a tutti.